Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Arkham Horror Final Hour, gioco a cura dell'Asmo d'Italia che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia recensione, grazie, è sempre un grandissimo piacere e un onore collaborare con voi ed è un gioco a sé stante, è un gioco stand alone, ovviamente ambientato nel filone di Arkham Horror che l'abbiamo visto sia come gioco da tavolo, nuova edizione sempre di Asmo d'Italia che vi ho portato sul canale qualche tempo fa se andate a ricercare nei video lo trovate, sia in versione LCG, i giochi di carte Living Car Game che sta avendo un successo assurdo, va avanti ormai da anni ed ha alle spalle un bel po' di espansioni questo è un gioco ambientato nello stesso mondo, nello stesso panorama tra l'altro delle case della follia però completamente stand alone, quindi un gioco che comprate e lo giocate a parte senza bisogno di espansioni o cose varie ve ne parlo a breve dopo la sigla Arkham Horror Final Hour, edizione italiana di Asmo d'Italia, è un gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori che ci vede come studenti della Miskatonic, o Miskatonic, mi pare si dica Miskatonic, non vuol dire una bugia che è quella scuola, praticamente quella universitaria, quel campus di ricerca nell'immaginario di Lovecraft citato in tantissimi suoi racconti uno fra tutti, lo spettacolare che poi, a tal proposito, apro una parentesi, vi devo far vedere cosa mi ha inviato la Freya Ligan da impazzire le montagne della follia, alle montagne della follia quindi uno dei racconti più iconici del maestro e dell'oro di tutti i tempi e voi sarete chiamati in questo campus a vestire il ruolo di, magari, investigatori ma anche comuni allevi e ritroviamo, tra l'altro, tipo Lily Chen, vari personaggi già visti nelle case della follia rivisti in Arkham Horror, LCG e tanti altri giochi, appunto, della stessa collana anche, mi sembra, dell'ultima edizione che vi portai sul canale Arkham Horror, che dovrebbe essere la terza edizione tra l'altro spettacolare e dovremo, praticamente, intercettare dei cultisti che nel campus stanno cercando di aprire vari portali per evocare il grande antico tra l'altro, grandi antiche, che ce ne sono tre all'interno trovate al solito Cthulhu, trovate Astur, il re giallo e, insomma, i più famosi, i più iconici voi dovrete muovervi per il campus e intercettarli e fermarli in un gioco che è solo cooperativo non c'è mai modo di giocare uno contro l'altro, anche perché, se loro riescano ad aprire questi portali non solo il campus viene distrutto, ma sarà distrutto anche il mondo quindi, comunque, voi dovete collaborare è una corsa contro il tempo e, secondo me, ha delle meccaniche veramente carine ripeto, per un gioco stand alone vi faccio vedere un po' come funziona, ma, prima di tutto, unboxing confezione del gioco vedete, è bello anche il disegno, la colorazione mi garba troppo, veramente questi qui dovrebbero essere dei Dagoniani vedendoli qua giù perché sembrano degli uomini pesce, delle cose del genere e classici investigatori col campus di sfondo che scappano, combattono, uccidono e vanno a investigare per chiudere i portali scatola, non grandissima, comunque c'è un bel po' di contenuto all'interno apriamo le schede dei Grandi Antichi che quando andate a giocare delle carte che c'è questo simbolo dovete fare la conta di tutti questi simboli che ci sono e applicare quello che succede qui sulla scheda del Grande Antico e queste qui sono le carte del setup, della missione e del Grande Antico uno dei tre che andrete a fronteggiare poi ci sono un bel po' di token, non tantissimi, comunque tutto quello che serve ci sono i cartonati dei personaggi, li troviamo come vi ho detto Lily Chen che viene da anche le case della follia è tra l'altro il preferito di mia moglie perché fa arti marziali e spacca tutti poi gettone primo giocatore per gli investigatori tutti quanti i segnalini indizi che servono per fare la combinazione finale zone distrutte, come vedete qui poi ci sono tutti i segnalini mostro, barricate e cose del genere tabellone di gioco che ora poi vi faccio vedere a modino durante la spiegazione veramente bellino, non troppo grande, non prende tantissimo posto e quindi va bene così carte iniziativa, con gli occhi come vi dicevo prima che attivano delle cose sempre negative quindi quando lo andate ad usare, occhio perché più occhi ci sono sopra ho fatto anche la battuta, occhio che più occhi ci sono sopra e più cose brutte vi capiteranno poi ci sono gli standi per mettere i sagomati dei vostri investigatori più tutte quante le carte azione che vi servono per giocare e sono qui contenuto nella scatola, ve lo dite, questo qua non c'è tantissima roba e il taglio è quello classico della Fantasy Flight vi faccio vedere un po' come funziona le meccaniche del gioco sono semplici però secondo me anche abbastanza interessanti e innovative o almeno sarà che a me non mi è mai capitato di vedere qualcosa del genere in campo board game però lo trovate interessanti c'è la mappa del campus, della Miskatonic e ci sono tutte quante le zone che voi potete visitare ogni zona è divisa in slot in cui potranno andare i mostri e questi slot possono essere rotti perché una zona i mostri la possono distruggere, dare alle fiamme e cose del genere e voi dovete evitare che questo succeda perché quando una zona viene distrutta i mostri si sposteranno in un'altra zona e oltre ad aprire portali in tutta la mappa come in tutti gli Arkham Horror voi siete chiamati a chiudere questi portali per fermare le evocazioni dei Grandi Antichi voi la cosa principale è che dovete evitare che loro convoglino verso un punto centrale e in questo punto centrale si aprirà un portale per evocare il Grande Antico c'è una formula di evocazione che all'inizio è decisa con dei simbolini che vengono tolti dal mucchetto dove voi potete andare a pescare e questi simboli che vengono tolti danno una combinazione per riuscire a fare la formula inversa e chiudere il portale quindi il vostro scopo è quello di girare appunto per il campus e individuare tutti quanti questi non tanto individuare la formula esatta ma andare per esclusione che è una meccanica molto carina e qui entra l'investigatore che è in voi giocando a Arkham Horror è normale vi calate in quella parte ed è interessante perché voi andando per esclusione magari questo ok l'ho trovato quindi non può essere nella formula perché sulla mappa non è stato messo da parte questo non c'è quindi potrebbe essere uno dei due che mi servono alla fine quando siete pronti o anche al terzo turno se siete pronti lo potete fare subito perché avete un tot di turni se non è rotto per trovare la formula per chiudere il portale potete dire fermiamo il gioco secondo me la soluzione è questa se indovinate avete vinto se non indovinate avete perso quindi alla fin fine non conviene tanto secondo me provare a chiudere il portale nei primi turni andate avanti tanto potete farla anche all'ottavo turno però dovete tenere sotto controllo la situazione perché se sentite un po' di rumore la stampante nel frattempo che lavora perché? perché quando voi vi spostate dovete non solo combattere i mostri ma evitare che le zone vengano distrutte e i mostri si spostino e come si fa questa meccanica? giocate con delle carte che per quanto è un gioco cooperativo e potete parlare fra investigatori non potete mai assolutamente dire la carta che avete in mano voi pescate una carta la vedete e la carta sempre lato sopra e lato sotto il lato uno dei due lati è sempre una cosa positiva verso di voi quello sotto è una cosa negativa e la cosa bella è che voi questa carta la mettete in gioco girata faccia in giù tutti gli altri giocatori fanno lo stesso e sopra ci mettete una carta priorità dal vostro mazzo carte priorità che hanno vari valori 1,2,3,4,5,30,40 e cose del genere più è basso il valore prima verrà giocata la carta e il regolamento del gioco vuole che voi quando andate a giocare le carte i valori più bassi sono le carte in positivo i valori più alti saranno le carte in negativo quindi se giocate in 4 e c'è 1,2,3,4 quello che ha messo 1 che è quello più basso fa la cosa positiva quello che ha messo 2 fa la seconda carta positiva la sua che ha giocato quello che ha messo 3 fa la prima negativa e quello che ha messo 4 fa la seconda negativa quindi dovete anche cercare di coordinarvi così però senza dire mai niente non puoi dire io ho un 3 in mano io ho un 5 oppure ho questa carta le carte sono segrete potete cercare di parlare però non potete mai dire effettivamente cosa state per fare ed è interessante perché le carte che giocate vi potrebbero far muovere vi potrebbero far combattere con l'equipaggiamento che avete con te mostri carte negative potrebbero far spawnare nuovi mostri o far muovere quelle esistenti o magari farli distruggere una parte del campus quindi si gioca in un gioco cooperativo a carte coperte dove la comunicazione deve essere assolutamente la cosa più importante valutazione finale questo final hour se ne è parlato parecchio anche in gruppi facebook tipo giochi da tavolo e cose del genere perché tante persone l'hanno vista e costa anche poco non mi ricordo sulla quarantina qualcosa del genere tante persone hanno detto ma conviene l'ho visto uscito nei siti l'ho visto l'ha pubblicato l'ha tradotto asmo d'italia quindi è bellino secondo me sì non è non è un filler perché i filler sono quei giochi dove ti fai una partita anche per fare uno spareggio mi dico sempre io per passare un po' il tempo quando non sai cosa fare questo no questo è proprio un gioco completo fatto bene e è interessante è un gioco a parte quindi non c'è bisogno che abbiate comprato le case della follia non è un'espansione per arcamoro di gioco di carte non è un'espansione niente questo è un gioco a parte preso confezionato ed è bellino perché questa meccanica della cooperazione però dove si gioca a carte coperte secondo me è interessante perché deve mettere in un po' in discussione le vostre scelte ma deve tirare fuori l'investigatore che è in voi anche perché per trovare la combinazione finale vi dovete un attimino guardare intorno per i simboli che avete trovato e poi andate per esclusione dovete anche avere un po' di fortuna però la fortuna fino a un certo punto questo è un gioco dove giocando bene le cose che avete in mano fortuna ce n'è zero e tutta quanta bravura quindi dovete un attimino starci dietro molto interessante secondo me promossa a pieni voti ringrazio Asmod Italia per avermi fornito questa copia se lo volete ordinare da Get Your Fun che trovate in sovimpressione e in descrizione al miglior prezzo sul mercato nel caso ce l'ha ma nel caso non l'avessero in lista mandate una mail al supporto dicendogli arrivo dal canale di Coridan si può avere questo gioco ve lo faranno trovare al miglior prezzo sul mercato non vuol dire scontato Get Your Fun non fa sconti perché tante persone provano ad approfittarsene arrivo dal canale di Coridan mi fai uno sconto non ne fanno a me non ne fanno a voi non ne fanno a nessuno di sconti però il gioco magari non ce l'hanno ve lo ordinano e ve lo fanno arrivare a casa al prezzo più competitivo sul mercato questo se è possibile lo fanno assolutamente e spedizioni postali in 48 ore e gratuite quindi comunque è veramente un bel servizio dateci un occhio ormai anche con Get Your Fun ci collaboro da un anno ragazzi promossa a pieni voti è veramente molto interessante gioco della Fantasy Flight portata in Italia da Asmodee che ringrazio e dateci un occhio perché poi per i fanatici di Lovecraft veramente veramente molto interessante ciao ragazzi alla prossima